Dice, come te chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruaglio. Con faluniere di Campomarcia, di professione carettiere, se sente da come parlo. Dice, allora perché te sei impicciato da cose che non te riguardano? Dico perché io so carettiere, ma a tempo perso so' uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti vi è Garibaldi e dice, favolo Italia. Io che fo? Non me impiccio. Io so' romano, eccellenza, ma a tempo perso so' italiano. E' colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui, è colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma no, signora, eccellenza, io ho difeso Roma, il paese mio, e lei ce lo sa mai da me. Ma come i francesi mi viene accannonata e io non me impiccio? Non me riguarda? Insomma, eccellenza, se andiamo a stringere, che mi ho fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io? Io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amore dei padri è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io so' colpevole. Anzi, so' reo, confesso, e mi offenderebbe pure se mi ripandaste a sordo. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia appersuosa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuati. Achtò, la ne domma che padre lo ha ragazzino! Oh! Sei papa in la domina, un piacere cosicida, un piacere cosicida. Tutto inizia il 15 novembre Tutto inizia il 15 novembre L'omicidio a quanto pare ma non è sicuro probabilmente è stato commesso da un figlio del capopopolo democratico Ciceruacchio. Il giorno successivo il 16 novembre lo stesso Ciceruacchio insieme a Carlo Luciano Bonaparte cugino dell'imperatore Napoleone III Insieme alle truppe dei carabinieri alla Guardia Civica si riuniscono a Piazza del Popolo e da lì marciano tutti insieme per le strade di Roma passando per il Parlamento e salendo fino sotto il Palazzo del Quirinale dove una folla tumultuosa manifesta per chiedere un ministro democratico la Costituente italiana e la guerra all'Austria. Il Papa è titubante, ha paura e infatti la sera del 24 novembre fugge da Roma vestito come un semplice sacerdote in una carrozza chiusa. Pochi giorni dopo, appunto la fuggita del Papa Gaeta, i democratici si affrettano a proclamare la Repubblica. Ma l'anno seguente, il 1849, il progressivo riflusso delle stanze rivoluzionarie e la sconfitta del Regno di Sardegna contro l'Austria fecero sì che Roma rimanga isolata di fronte a tutte le grandi potenze, quindi di fronte al Regno di Napoli, alla Francia e all'Austria, che vogliono riportare il Papa sul trono. Ma tra tutti questi avversari il più improbabile, il più paradossale è proprio la Repubblica Francese, presieduta da quel Luigi Napoleone, Napoleone III, che in gioventù era stato uno dei protagonisti dei modi rivoluzionali scoppiati proprio a Roma. L'imperatore quindi costituisce un contingente di 16.000 soldati, chiamato il Corpo di Spedizione del Mediterraneo, al comando del generale Nicolas Charles Victor Udino, ex ufficiale napoleonico. Ufficialmente il comandante Udino affermava di voler solo evitare l'intervento austro-napoletano, ma i Romani non avevano alcuna intenzione di farlo entrare in città. La Repubblica, guidata da un triunvirato formato da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Merlini, e da un'assemblea costituente preseduta da Carlo Bonaparte, si prepara pertanto allo scontro, mettendo in campo un esercito comunque, nonostante la piccolezza, diciamo così, della Repubblica Romana, di tutto rispetto, 12 battaglioni di guarda nazionale e uno universitario, a cui si aggiungevano circa 10.000 regolari pontifici. Poi c'erano anche tanti volontari giunti a Roma per contribuire alla sua difesa, perfino da paesi stranieri e dalla stessa Francia. Tra tutti spiccavano i 1.200 regionari condotti da Garibaldi e 600 bersaglieri al comando di Luciano Marnara, eroe delle cinque giornate di Milano. Le forze vennero suddivise in quattro brigade, con a capo rispettivamente Garibaldi, Masi, Savini e Galletti. Udinò sbarca a Civitavecchia il 24 aprile 1849 e, pensando che comunque la Repubblica Romana non possedesse le difese necessarie a fermare il suo esercito, ritiene sufficiente mandare meno della metà del proprio esercito. I francesi attaccano le mure al 30 aprile, in piena mattinata, sottovalutando, come dicevo, ampiamente le difese dei romani, che li rispingono con facilità. Garibaldi, infatti, si sente talmente incoraggiato da questa difesa da condurre i suoi al contrattacco, proprio quando i francesi si stanno ritirando. Dopo un primo momento di difficoltà, però, dovuto alla superiorità numerica del nemico, gli italiani prevalsero, infliggendo ai francesi un migliaio di perdite, tra morti, feriti e prigionieri. Questa vittoria provoca un enorme entusiasmo tra le file dei repubblicani e indusse però i francesi alla cautela, che respinsero gli approcci diplomatici tramite Ferdinand di Lesseps, il futuro costruttore del canale di Suez. Intanto, però, il resto dello Stato Pontificio era caduto in mano delle armate austriache, mentre altri volontari continuavano ad arrivare a Roma. Ma nello stesso momento, dal sud Italia, sta arrivando anche un esercito borbonico. Contro i napoletani, i caribaldi conduce subito una colonna di 2300 uomini. In un primo scontro avvenuto il 9 maggio a Palestrina, però non è risolutorio. La Repubblica, quindi, decide per un'azione più massiccia, mettendo a disposizione del generale e del suo diretto superiore ben 11.000 uomini. Un secondo scontro avvenuto a Velledri, anche questo si risolve in un niente di fatto, non è neanche questo risolutivo, ma, se non altro, provoca la ritirata dell'esercito nemico, condotto dal re di Napoli, Ferdinando II II in persona. I francesi, nel frattempo, avevano rotto di nuovo gli indugi e le trattative, e il generale Udinò, forte ormai di 30.000 uomini e 75 bocche da fuoco, si prepara a un nuovo attacco. Udinò annuncia l'azione per il 4 giugno, ma poi inizia ad avanzare contro le mura del Gianicolo la notte tra il 2 e il 3. Il suo assalto sorprende i difensori di Villa Panfili, che sgomberano le posizioni, cadendo in parte i prigionieri. Alla fine della giornata, i francesi sono saldamente insediati a ridosso delle mura, e oltretutto controllano il Tevere a nord e a sud, che, di fatto, poneva un blocco alla città. Tra i 110 raduti italiani figurano Enrico Dandolo, compagno di Manara, Francesco Daverio, garibaldino della prima ora, e un giovane ventenne di nome Goffredo Mameli, il quale muore di cancrena due giorni dopo per una ferita alla gamba. Ora i francesi hanno i cannoni ben piazzati. Il loro bombardamento inizia il 13 giugno, provocando ingenti danni alle mura Giannico Lenzi e costringendo i difensori ad arretrare dietro le mura aureliane, meno robuste. Gli assedianti tagliano anche gli acquedotti, ma nonostante questo la popolazione romana, pur ridotta alla fame e alla sete, non si arrende. Ma non c'è modo di resistere a una seconda ondata, a un secondo attacco francese. Il generale Udinò scatena un secondo attacco alle due del mattino del 30 giugno. I francesi riescono a irrompere dal Giannico, mettendo in fuga i resti dell'esercito repubblicano e spazzando a via qualunque opposizione. A mezzogiorno, quando si stabilì una tregua per raccogliere i morti, tra i 400 caduti italiani c'è anche Luciano Manara. All'Assemblea Costituente non resta che deliberare la capitolazione, lasciando che i francesi occupino la città il 3 luglio. Quello stesso giorno però la Costituente fa un atto simbolico, cioè promulga la Costituzione romana. Questa promulgazione è un seme lasciato ai posteri, il quale porterà un frutto che ancora oggi possiamo vedere. La Costituzione della Repubblica Romana di fatto è la mamma della nostra Costituzione. La nostra Costituzione del 48 si basa per la maggior parte proprio sulla Costituzione romana del 1849. I francesi arrivati in città, dicevo, permettono ai protagonisti della difesa di Roma di partire indisturbati. Mazzini poteva perfino rimanere dentro nel mura fino a mezzogiorno. Molti però erano ricercati, dalla polizia austriaca soprattutto, a cominciare dallo stesso Garibaldi, che riuscì a mettersi in salvo dopo molte peripezie e dopo aver perso la moglie Anita presso Ravenna. Non furono così, però, fortunati, il cappellano delle truppe pontificio Cobassi e Cicero Acchio, che con suo figlio tredicenne, furono catturati e fucilati. Per loro non sarebbero più valse le parole dell'ultimo proclama emesso dall'Assemblea Costituente subito dopo la caduta della città. D'ora innanzi non potranno più caluniarvi altri popoli e non potranno dire che Roma non conserva più dell'antico fuorché i monumenti e le rovine. Voi risponderete additando, con altera fierezza, le nuove rovine. Se va ballato via, può piacere così sia, può piacere così sia. Non vorrei retta a farlo, perché tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi, perché ci non prendono, perché ci non prendono, perché ci non prendono. Grazie.